lukas è finita tra uno questa partita l'impressione che abbiate perso un'occasione nel secondo set sì sì peccato per questo che abbiamo spiegato occasione secondo set secondo me questo era un momento decisivo devo dire che la squadra di perugia ha giocato molto bene oggi tutti i fondamentali di pesa in attacco in battuta adesso aspettiamo a una partita indensa anche a trento ecco in gara tre cosa dovrete cambiare e dobbiamo iniziare a giocare con il nostro gioco dall'inizio secondo me dobbiamo giocare fino alla fine non volare e lottare fino alla fine manuele un 3 a 1 che forse vi lascia qualche ramarico addosso alludo al secondo set ramarico c'è per forza perché era una chance per passare il turno andare in finale quindi come come non essere dispiaciuti però insomma loro hanno giocato bene sicuramente meglio che a trento e insomma sapevamo che avevano tanto carattere soprattutto in casa loro noi come detto tu forse andava vinto quel secondo set perché eravamo avanti abbiamo sbagliato troppo siamo stati poco lucidi e poi insomma il piano doveva essere quello secondo me andare uno a uno e poi provare a vincere il terzo di slancio per mettere in pressione insomma un po' con le spalle al muro però da 2-0 sotto è vero che il terzo l'abbiamo vinto anche fin troppo facilmente poi il quarto si è messo male sui binari che erano prima Panasevia ha giocato molto bene sicuramente va limitato e anche noi in attacco dobbiamo ritrovare un po' il ritmo che avevamo che in queste partite insomma è un po' calato gara 3 però si gioca il palo a trento sì ma direi che come come valori ci può stare che questa gara si decida gara 3 insomma quindi calma sangue freddo va bene va bene così torniamo a trento e ce la giochiamo in casa dopo insomma comunque per sei mesi abbiamo giocato la regular season provando arrivare più su in classifica possibile in modo da avere l'eventuale bella in casa adesso proviamo a far valere questo piccolo vantaggio